Salve a tutti, ben ritrovati e prima di partire con la news vi ricordo che potrete commentare qui sotto, condividere con i vostri amici questi video e se non siete iscritti iscrivervi al canale. Detto questo partiamo con la news. Annuncio a sorpresa e con un po' di vena polemica da parte di Loredana Lecciso. Le ultime voci hanno coinvolto anche la figlia Yasmin Carrisi, quindi ci ha pensato lei a rompere il silenzio e a smentire categoricamente una notizia circolata con forza. Mamma e figlia sembravano vicinissime ad un'importante esperienza, invece il pubblico è rimasto a bocca aperta quando ha letto le parole della compagna del cantante albano. Loredana Lecciso e Yasmin Carrisi non saranno protagoniste in tv, nonostante le indiscrezioni sempre più frequenti. La donna ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa giornalistica ADN Kronos, qui ha respinto immediatamente tutto parlando apertamente di notizie false. Una vera delusione per i telespettatori, che già stavano pregustando un'avventura di lei con la figlia, che avrebbe certamente catalizzato l'attenzione della maggioranza. Quindi, niente da fare per Loredana Lecciso e Yasmin Carrisi, che non prenderanno parte ad uno dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva. Mamma e figlia avrebbero dovuto fare qualcosa di interessante, ma invece i loro progetti sono totalmente differenti. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato la partner di Albano, che non ha nascosto un certo fastidio per queste news che vengono fuori spesso. Loredana e la figlia Yasmin non saranno concorrenti al GFVIP 8, io e Yasmin al GFVIP? È una fake news, non abbiamo mai sostenuto alcun provino. Ogni anno puntualmente esce questa notizia, dice divertita Loredana. Stimo molto Alfonso Signorini e seguo il suo programma ma a dispetto del pensiero collettivo sono una persona molto insicura e l'idea di essere ripresa H24 dalle telecamere mi metterebbe molta ansia. Infine, alla DN Kronos, Loredana Lecciso ha aggiunto, qualche anno fa Signorini mi propose di partecipare come opinionista al GFVIP, l'idea mi allettava molto ma poi la cosa non si concretizzò. Ma in veste di Geffina non la vedremo mai. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max. Grazie.